Ciao a tutti e benvenuti di nuovo sul canale. Oggi voglio parlare con voi della nostra amata serie turca, quella che ci ha fatto sognare ad occhi aperti, piangere lacrime a mare e arrabbiare come non mai. Endless love. So che molti di voi sono in trepidante attesa di scoprire cosa accadrà nelle ultime puntate della seconda e ultima stagione. E credetemi, ci sono dei colpi di scena che vi lasceranno senza fiato. Prima di tutto pensate a tutto quello che è successo finora. Abbiamo seguito le vicende di Kemal e Nihan, il loro amore tormentato, le interferenze di Emire e gli intrighi che hanno reso la loro storia così appassionante, ma ora le cose stanno per cambiare drasticamente. Immaginatevi questo, due dei personaggi più importanti della serie perderanno la vita. Sì, avete capito bene. Kemal, il nostro eroe, morirà a causa di un'esplosione di una mina. Un evento scioccante che nessuno di noi avrebbe mai voluto vedere. E come se non bastasse, anche Leila ci lascerà, avvelenata da Asu con una puntura che non le lascerà scampo. Vi chiederete, come potrà Nihan affrontare tutto questo? Si ritroverà da sola a dover crescere la piccola Deniz senza l'amore della sua vita e senza l'appoggio di Leila. Un peso enorme sulle sue spalle. Ma conoscendo la forza di Nihan, sapete che non si arrenderà facilmente. E mentre Nihan cerca di rimettere insieme i pezzi della sua vita, Emire continua con le sue ossessioni. Nonostante ottenga il divorzio, non smetterà di perseguitare Nihan e Deniz. Ma c'è di più. Emire sposerà Zeynep. Sì, avete sentito bene. Zeynep rimarrà nuovamente incinta di Emire e i due decideranno di sposarsi. Una mossa inaspettata che lascerà tutti a bocca aperta. Ma le cose non andranno come previsto. Zeynep, nel tentativo di salvare la vita del fratello Kemal da uno dei piani malvagi di Emire, avrà un incidente stradale e perderà il bambino. Un colpo durissimo per lei. E come reagirà Emire? Deciderà di lasciarla, abbandonandola nel momento del bisogno. Zeynep sarà costretta a tornare dai suoi genitori, sola e disperata. Intanto, Tariq finirà in prigione. Un altro duro colpo per la famiglia. Come influenzerà questo evento la dinamica familiare? Saranno in grado di superare anche questa prova? E quale sarà il destino di Tariq? Riuscirà a trovare una via di redenzione o resterà intrappolato nelle sue scelte sbagliate? Ma non tutte le notizie sono negative. C'è un raggio di speranza quando Mugan si risveglia dal coma. Diventerà uno dei personaggi principali della soap, portando nuove dinamiche e intrecci nella trama. Siamo tutti curiosi di vedere come il suo ritorno influenzerà gli altri personaggi. E in mezzo a tutto questo caos, almeno una buona notizia. Zehir e Zera finalmente riusciranno a stare insieme. Una coppia che abbiamo sostenuto sin dall'inizio e che finalmente vedrà realizzato il proprio amore. Un piccolo sollievo in una trama così carica di tensione. Ma torniamo a Kemal. Ricordate quando sospettava che Deniz potesse essere sua figlia? Ebbene, grazie a un esame del DNA avrà la conferma tanto attesa. Un momento emozionante che aspettavamo da tempo. Niang Yi confesserà che ha sempre voluto dirgli la verità, ma che è stata costretta a tacere per le minacce di Emir. Pensate, Emir era pronto a buttare la piccola Deniz da una scogliera pur di mantenere il segreto. Una dimostrazione di quanto possa essere crudele e spietato. Questo porterà a un riavvicinamento tra Kemal e Nihan? Riusciranno a superare le difficoltà e a costruire una vita insieme, nonostante tutto quello che è successo? Ma con la morte di Kemal all'orizzonte, le cose sembrano destinate a un finale tragico. E Zeynep verrà arrestata per aver soffocato Ozan. In un gesto estremo si sacrificherà al posto del fratello, un atto di amore o di disperazione. Quando Nihan lo scoprirà, tenterà di strangolarla, accecata dalla rabbia e dal dolore. Questo causerà una frattura insanabile tra Nihan e Kemal, rendendo ancora più complicata la situazione. Vi starete chiedendo, c'è speranza per questi personaggi? Ci sarà un lieto fine o saranno tutti destinati a soffrire? Le ultime puntate di Endless Love promettono di essere cariche di emozioni, colpi di scena e momenti indimenticabili. E mentre ci avviciniamo al gran finale, non possiamo fare a meno di riflettere su quanto questa serie ci abbia coinvolto. Abbiamo vissuto insieme ai personaggi, ci siamo affezionati a loro, abbiamo sofferto e gioito con loro. E ora siamo sul punto di scoprire come si concluderà questa straordinaria storia. Quindi non perdetevi i prossimi episodi. Restate sintonizzati sul canale perché continueremo a seguire ogni sviluppo, ogni sorpresa, ogni emozione che Endless Love ha ancora in serbo per noi. Prima di concludere vorrei sapere cosa ne pensate voi. Quali sono le vostre teorie sul finale? Credete che ci sia ancora speranza per Nihan? Come pensate che reagirà alla morte di Kemal? E Zeynep troverà una via per redimersi? Lasciate i vostri commenti qui sotto. Mi piace leggere le vostre opinioni e discutere insieme delle possibili evoluzioni della trama. È incredibile come una serie possa unire così tante persone e creare una comunità appassionata come la nostra. Se il video vi è piaciuto non dimenticate di mettere un like e di iscrivervi al canale. In questo modo non vi perderete nessuno dei prossimi aggiornamenti su Endless Love e sulle altre serie che seguiamo insieme. Grazie per aver passato questo tempo con me. È sempre un piacere condividere con voi le emozioni e le sorprese che queste storie ci regalano. Ci vediamo al prossimo video! Pensate a tutte le emozioni che abbiamo vissuto insieme a Kemal e Nihan, alle sfide che hanno affrontato e agli ostacoli che hanno superato per stare insieme. E ora, mentre ci avviciniamo al gran finale, le cose si fanno ancora più intense e imprevedibili. Non voglio spoilerarvi troppo, ma vi assicuro che preparatevi a momenti che vi terranno incollati allo schermo. Sarà un mix di emozioni forti, amori, tradimenti, amicizie messe alla prova e segreti che verranno finalmente alla luce. Questa serie non smette mai di sorprenderci, vero? E proprio quando pensiamo di aver capito tutto, ecco che arriva un altro colpo di scena che ci lascia bocca aperta. Quindi, tenetevi forte e preparate i popcorn, perché stiamo per entrare nel vivo della storia. Non vedo l'ora di discutere con voi di tutto quello che succederà nelle prossime puntate. Restate sintonizzati e, come sempre, grazie per essere qui con me.